A Cesenatico a derby Cesenat tra Gatteo e Granata, derby soprattutto che emette sentenze importanti con entrambe le compagini desiderose dei tre punti per tirarsi fuori dalla zona rossa di classifica. Tra le due sta peggio Gatteo, Fanalino di coda. Arbita la gara Francesco Riccardi della sezione di Rimini, coadiuvato da Mattia Sabba della stessa sezione e Michela Gamberoni della sezione di Faenza. Nonostante il passivo pesante nella prima parte di gara, è Gatteo a creare l'occasione più limpide nello spazio di 60 secondi, esattamente tra il secondo e il terzo minuto. Cozzino, impegno e portiere di casa, tra l'altro ex Sant'Arcangelo Simone Benghi. Dall'altra parte Niang non è da meno, quando li spinge sul proprio palo di piede, una punizione di Boni. Endai e Cozzino dall'altra parte scambiano e arrivano al tiro, Benghi ancora una volta blocca la sfera. Gatteo nuovamente vicino al gol, punizione di Esaki, Pollini di testa, manda all'atto di un nulla. I giallorossi proseguono il loro forcing, qui e tappi a provare la via dei gol, conclusione da dimenticare. Finale di tempo con due conclusioni per opera del Granata a cura di Ambrosini, entrambe bloccate da Niang. Prima del duplice fischio finale, Benghi scalda i guantoni, bloccando la punizione ospite. Nella ripresa, la gara si sblocca già al secondo. Dall'angolo sotto misura arriva il colpo di testa di Ambrosini che fa 1-0. Granata in vantaggio e gol che sa di liberazione. E ancora Ambrosini a provare la via dei gol, senza inquadrare questa volta lo specchio della porta. Il Gatteo è uscito dalla partita, ma ci prova con Endai, mira lontana dal bersaglio. Da punizione, Granata sfiera la seconda marcatura, gol solo rimandato al minuto 41, quando sul traversone di Giannini, Caporali sigla il 2-0. Partita messa a questo punto in archivio. Passano 10 minuti e nell'extra time, Sacchetti mette i titoli di coda per il 3-0 finale, che merita gli applausi del pubblico locale, con il Granata che si rilancia in classifica. Grazie.